Devozione profonda. Cerchio K attraverso Marco. Una devozione che fa dell'insegnamento spirituale dei maestri immateriale una prigione entro la quale voi rinchiudete il vostro principio di consapevolezza. Circoscrivendo così l'insegnamento in cui affermate di credere, quella devozione è cenere perché non è devozione divina. Amate il prossimo vostro, siate costantemente consapevoli di ciò che induce ogni vostra azione e siate l'offrendo la vostra autoanalisi quotidiana in olocausto alla forma di divinità che preferite sia essa, Cristo, Crisna, Buddha, purché vi sia. L'introspezione senza devozione ingrandisce l'io e fa credere all'uomo di raggiungere tutto per suo merito, di conoscere se stesso solo per propria volontà. Invece ogni rivelazione che viene dall'introspezione profonda attraverso alla costante consapevolezza è un dono di Dio al quale va restituito quel dono in olocausto, in sacrificio, in devozione profonda. E coloro che agiscono identificandosi con ciò che fanno non hanno compreso la natura dell'azione.